La nostra idea consiste nel rivoluzionare il mondo delle palestre. Allora, è divisa in tre parti, l'alimentazione, l'allenamento e l'autosufficienza energetica. L'applicazione è per tutti, tutti quelli che vogliono monitorare la dieta per una vita più sana. Però è più specifica anche per quelli che hanno dei limiti alimentari, anche perché se loro si trovano in ristoranti, come ho già detto, e non sanno gli ingredienti dei cibi, allora l'applicazione sarà in grado di dirgli che non possano mangiare cibi. Il messaggio è che per una vita più sana non è la tecnologia solo che vi aiuta. La tecnologia si vi agevola e noi cerchiamo di agevolare sempre di più. Però la cosa base che ci vuole è la determinazione. La tecnologia si vi agevola e noi cerchiamo di agevolare sempre di più.